benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati qui col nostro portogallo nella nobile missione di riunificare i territori del trattato di tordesiglias siamo rimasti in pochi per essere precisi 12 ma per completare la nostra missione dobbiamo fare fuori i regni del calibro del regno di romania o del madagascar dunque per iniziare direi di iniziare ecco sapete che vi dico iniziamo con un bel like che può essere di supporto io vabbè direi di iniziare con andiamo col madagascar veramente dai avevamo le truppe mi pare riunite in un unico esercito qua possiamo quindi già procedere con l'invasione dell'isola da est no meglio da nord perché almeno il nord cade prima e riesco a gestire meglio il tutto raif commissariat ti attacco che sei alleato peraltro con chi parte il madagascar ha territori in altri posti vabbè sei alleato con stati che non mi interessano molto quindi mi limiterò a prendere solo te dividiamo le truppe scendiamo dividiamo le truppe ancora temporeggiamo giusto un turno e ora scendiamo a tutto spiano verso la presa della capitale capitale che però non ci garantisce la vittoria al che ci tocca scendere ancora perfetto abbiamo finito la nostra nobile invasione del port del madagascar facciamo così e facciamo pace possiamo fare pace in realtà con un sacco di persone perché siamo contro mezzo mondo ma io voglio soltanto prendermi il commissariato che ho conquistato con tanta fatica quindi datemi i miei territori e basta molto bene abbiamo perso circa 40.000 uomini ma tant'è ci bastano ho messo un po di sottofondo magari vi piace fatemi sapere nei commenti che ne pensate altrimenti se non commenterete farò ovviamente di testa mia e ora un altro nemico in meno che dovremmo affrontare chi c'è qua lo man da 66 province che però credo abbia soltanto una provincia interessante o man due province le due isole ma se gli chiedessi solo queste lo man accetterebbe no rifiuterebbe e allora ci tocca invadere lo man sperando non crei problemi io ci provo anzi gli dichiaro guerra gli invadono entrambe le isole e poi gli chiedo subito la pace ovviamente non avevo pensato al fatto che il medio oriente sarebbe potuto essere un punto attaccabile ma tant'è a noi non importa più di tanto aumentiamo il numero di truppe lì giusto per evitare problemi e andiamo a prendere la seconda isola che ci interessa ora possiamo proporre una pace al oman facciamo così questo coso lo sto odiando lo metterò qua sopra molto bene pace fatta meraviglioso al che manca un nemico in meno l'india che provincia avrà l'india credo questa sì ma guardate avendo ancora tante truppe ci voglio provare quindi facciamo così facciamo così india mi serve solo questo territorio dai dai che stiamo andando nella giusta direzione india voglio solo queste isole me l'accetti questa pace l'india ha accettato la pace ottimo evitiamo almeno di entrare in lunghe e noiose guerre ora chi ha meno di tutti il brasile quindi mi tocca volare sino in brasile di preciso qua dove tra cile e venezuela ci sono i miei territori di maggior interesse giusto perché c'è scritto brasile al brasile ne ha alcuni cioè meglio ne ha uno sarà meglio attaccare già da subito il cile di cui mi interessano però soltanto alcuni territori sbarchiamo a san salvador poi dividiamo le nostre truppe in tre poi li dobbiamo lasciarle perché se no è un problema non voglio fare cose troppo rognose quindi a me basta prendere semplicemente i territori di questa zona poi al resto ci pensiamo dopo così e così domanda ma a parte il cile non l'ho annesso ma mi servono altri territori del cile no e quindi perché non fare subito pace col cile ottenendo i territori appena conquistati del resto l'obiettivo è prendere tordesiglia se non il resto pace fatta meraviglioso direi adesso di fare la medesima cosa con il brasile spendiamo giusto qualche soldino in assimilazione consumando le casse nazionali le casse nazionali sono salve perché abbiamo finito non nomineremo altre città non siamo quel tipo di dittatori ci prendiamo giusto quel territorio e ora che ci penso in effetti potrebbero farmela pagare quindi facciamo anche una cosa del genere e reclutiamo 2000 truppe qua per sicurezza a sto punto per completezza completiamo scusate il gioco di parole la zona e poi chiediamo una pace con i quattro territori presi meraviglioso fatto ciò abbiamo già delle truppe schierate qua delle truppe schierate qua in tre eserciti qui dividiamo qua non serve direi che possiamo andare col venezuela alleato della bolivia che però è troppo distante per essere un pericolo quindi di tutta la forza che abbiamo la useremo contro il venezuela al che avremmo finito questa parte di tordesiglias questi territori furono ingegnosamente occupati dai portoghesi dato che rientravano ancora nel meridiano favorevole pertanto io in veste di capo di stato generale e quello che volete potrò reclamarne legittimamente il possesso la bolivia mi attacca ma non credo che la cosa sia importante ai fini della nostra storia poiché appena questi attacchi saranno tutti finiti io avrò terminato il mio obiettivo sudamericano attenzione ai buchi non ne possiamo lasciare qua abbiamo finito decisamente sì qui dobbiamo anche evitare che possano espandersi in zone sconf in zone sbagliate come appena successo ora che sono stati accerchiati li dobbiamo inseguire sperare che lasciano per strada un po di uomini facciamo così così da evitare il peggio e il gioco è fatto quello che mi interessava prendere l'ho preso quindi direi di fare una bella pace col venezuela dove ci andiamo a prendere tutti i territori conquistati in battaglia fatto ciò stiamo sconfiggendo già tutti i nemici più importanti in il giro di pochissimo riuniamo quello che resta delle 215 mila truppe di partenza che non sono proprio tantissime in quanto questa guerra ha un po danneggiato il cuore siamo adesso a sud c'è qualcuno la nuova zelanda la nuova zelanda lì non si può vedere però c'è quindi direi di mettere l'esercito ben diviso e di pensarci subito abbiamo dei punti li assegniamo ormai a casaccio possiamo paradossalmente alzare tutto al 30 per cento così che il paese può crescere in modo più veloce e 30 sia salviamo il gioco assimiliamo le province perdendo un po di soldi fa non sono bellissimo comunque ora devo pensare a fare un esercito quindi dov'è che si può fare l'esercito meglio popolazione reclutabile lisbona 61.000 ragazzi ragazzi non avevo mai reclutato così tante truppe in un solo punto cioè in pratica abbiamo fatto 207.000 truppe di nuovo che voglio dire le lascio lì perché non mi servono per ora ma wow comunque non voglio cambiare nomi alle città come detto quindi andiamo ad invadere la nuova zelanda augurandoci di fare il più velocemente possibile dato che non voglio una terza guerra mondiale come conseguenza del trattato di tordesiglias nuova zelanda ci prova ma dovremmo aver finito no perché mancano ancora queste province quindi ci serve almeno un altro turno qua sopra evitiamo il peggio qua puniamoli direi che il gioco è quasi fatto dobbiamo solo sperare che va bene l'australia ha invaso un nostro possedimento cinese diciamo l'ignoro giusto perché ci sarebbe da dire troppo ma io non ne ho voglia perché davvero è una cosa troppo vilare il fatto che l'australia sia in cina ma comunque sia loro si fanno sentire la federazione indiana si fa sentire noi però ora potremmo essere messi un po male perché abbiamo sia un pesantissimo buco da colmare mediante coscrizione fortunatamente ci riusciamo abbiamo occupato parecchie terre quindi possiamo anche un attimino qua espanderci a cuscinetto questo stato di federazione indiana sta invadendo gli territori nostri quindi io ci farei una pace separata no non posso e allora vado a mettere delle truppe al confine per evitare fregature ci dichiara guerra un po mezzo mondo ma noi siamo al sicuro soprattutto dopo il prossimo turno sarà ancora meglio qui stanno iniziando ad esagerare forse dovevo vedere prima contro chi mi stava andando a mettere per evitare il peggio ma a livello di impero di tordesiglias manca ancora qualcosa quindi procediamo con l'ultimo accerchiamento qui anche procediamo con l'accerchiamento qui che siamo tanti ovviamente procediamo con l'accerchiamento e qua terminiamo l'accerchiamento del nord o meglio dei territori a ovest mi interessa fino a un certo punto ciò che mi interessava era prendere questi e li ho presi direi di fare una pace con la nuova zelanda in cui ci andiamo a prendere tutti i territori necessari più questi sapete che vi dico gli lasciamo questi quattro e ci andiamo a riprendere quello che è il nostro sì sì clamoroso rifiutano la pace perdiamo sei territori e la cosa mi preoccupa non capisco perché abbiano rifiutato forse perché ho fatto un po di casino con il trattato può essere ma noi siamo tranquilli anche perché ogni turno che passa la punizione si moltiplica avendo peraltro un esercito maggiore ancora voglia il tempo c'è non manca coscrizione ci dà una mano coscrizione ci dà una mano ci prendiamo giusto un turno di attesa e vediamo come va attenzione perché loro riescono anche a penetrare le nostre linee ma noi siamo più forti quindi dopo quest'ulteriore turno di penitenza che hanno dovuto pagare sono riuscito a reclutare un esercito nella provincia occupata ma in che senso vabbè comunque sia respingiamo i nostri nemici anche qua sempre rigorosamente con coscrizione perché altrimenti siamo messi male coscrizione di nuovo e via io un trattatino di pace ve lo ripropongo lasciatemi i miei territori tutti questi aspettate ma quello fa parte del trattato di tordesiglias no ok devo seguire questa linea verticale ovviamente essendo un meridiano da seguire io devo seguire il mio meridiano e prendere tutti questi poi qua mi riprendo i miei non voglio rogne datemi semplicemente questi territori qua e basta dai su niente non è loro interesse trattare con me sarà mio interesse distruggerli definitivamente l'hanno voluto loro non io quindi reclutiamoli questi due eserciti continuiamo con la conquista qui grazie a queste truppe riusciremo a dire la nostra qui riusciamo anche a reclutare 4000 unità cosa spettacolare non capisco perché la nuova zalanda sta resistendo così tanto ma non era previsto cioè doveva essere una guerra lampo in teoria ma tra la teoria e la pratica ci sono di mezzo 6000 truppe qua vabbè a questo punto terminiamo l'intera esistenza dell'inesistente nuova zelanda per i pochi che coglieranno la citt meritate il mio rispetto commentate con nuova zelanda se siete arrivati fin qua perché tra poco non ne resterà davvero neanche l'ombra tensione manca davvero poco alla presa totale della nuova zelanda qui a nord abbiamo fatto anche grandi cose con gli stati uniti che rompono siamo in guerra contro gli stati uniti e contro la nuova zelanda ora io sono propenso a un trattato di pace ovviamente per le mie condizioni tu lo accetteresti per caso mi accontento veramente di questi territori a sud questi a nord e con le 61 stelline che restano ve le regalo cioè vi sto facendo un trattato che più vantaggioso non si può se non accettate nemmeno sto giro siete deficienti ve lo dovete far dire con tutto il rispetto se rifiuto se accetterete potrete sopravvivere vabbè dai credo che abbiano scelto la morte gloriosa come dice l'anatra col coltello peace was never an option attenzione perché 20.000 truppe americane sono sbarcate lì e lì sarà più difficile fermarli quindi occhio devo stare molto attento qua perché non posso perdere quella zona provo a insistere nella speranza che possano levarsi dal mezzo attenzione l'australia sbarca con due eserciti c'è la nuova zelanda sta regando davvero tutti sti problemi c'è assurdo c'è mi sta toccando non posso fare il trattato perché ho perso i territori questa guerra sarà molto più lunga del previsto allora se non vogliono accettarmi neanche la pace cosa ci posso fare mandare truppe a nord e arginare il problema tanto a sud riusciamo a reclutare benissimo quindi a nord facciamo il possibile ora vedete come forzo la pace io il modo ce l'ho ovviamente è che volevo evitarmelo andiamo a prendere le truppe del portogallo che avevo saggiamente reclutato qua e mai utilizzato e usiamole per attaccare direttamente la capitale della nuova zelanda ora si tratta solo di resistere e di accerchiare i nostri nemici nel seguente modo e continuando a spingere verso qua riusciamo a reclutare a vittoria una gran cosa perfetto 48.000 truppe lì in effetti non so come le arginerò ma in qualche modo faremo gli americani si stanno rivelando davvero un problema quindi sarò costretto anche a diminuire la ricerca per riuscire a fermare questa invasione qua altre 7.000 truppe le mettiamo ovviamente se no il rischio è ampio qui difendiamo la zona e accerchiamo reclutando bene si non puoi reclutare un esercito nelle province occupate poi me l'hai fatto fare quindi cosa sono le regole di preciso comunque loro sono sicuramente più forti di noi da un punto di vista numerico ma noi abbiamo la costanza e i soldi eterni quindi mi basterà tra virgolette estirparli e poi il gioco sarà fatto sempre che non si propaghino ancora perché li potrebbe essere un problema questa guerra non vuole proprio finire non so se ora ora come ora accetterebbero un trattato io voglio soltanto prendere i territori designati e credo di averli anche presi sì quindi cortesemente mi accetti questo trattato di pace in cui io mi prendo soltanto questo e mi lasci stare per cortesia te lo sto chiedendo sto rinunciando a parecchie stelline e parecchie truppe per questo se non accetti è peggio perché poi arrivano le truppe di new wellington e sei fregato quindi non ti conviene continuare questo tira e molla e allora tira e molla sia tanto manca poco a breve la nuova zelanda cadrà e mi prenderò tutto ci tocca soltanto resistere ed evitare il peggio ma quando le truppe arriveranno a new wellington nel giro di tre turni al massimo saranno spacciati quindi questa guerra l'ho vinta di tattica e di furbizia sì ma prendete tutto quello che volete tanto una volta che vi attaccherò l'epicentro poi voglio vedere sì ma quando arrivano le truppe la credo manchi giusto uno due turni uno no manca troppo ancora wow finalmente una guerra vincente almeno mettiamo i nostri canonici quattro eserciti e continuiamo a respingere nemici tanto ne abbiamo truppe tranquilli non non vi preoccupate qui dobbiamo giusto prendere territori per evitare il peggio se così si può dire qua andiamo a rafforzare la nostra linea difensiva tanto mi pare che non mi ricordo dove c'è un punto in cui si reclutano 7000 truppe sì loro ci stanno attaccando con tutta la loro forza ma noi la resistenza che abbiamo è pressoché eterna cioè sì ok prendeteci tutto tanto quando andremo a fare la pace saprò poi giostrarmela bene io non vi faccio tagli e non vi levo nulla così ci gustiamo assieme alla vittoria una vittoria soffertissima considerando che ho perso 320 mila truppe finora per questa guerra e il numero potrebbe andare avanti pressoché infinito coscrizione che è una cosa in più a non posso coscrivere in territori occupati perfetto allora reclutiamoli con calma e aspettiamo tanto dovrà arrivare prima o poi lo sbarco decisivo e quando arriva lo sbarco che voi sarete fregati sì bravi state invadendo tutto ma credo che io il prossimo turno no non ancora vabbè mi tocca aspettare ancora allora sapete che vi dico però me ne vado in posizioni difensive cioè smetto di attaccare così loro attaccano e consumano le truppe idem in ogni territorio libero qua ora io metto eserciti cuscinetto così li blocco e loro non proseguono più idem qua mettiamo degli eserciti più ampi possibili e vediamo come si evolve io non attacco più ripeto metto giusto qualche esercito per riserva e infatti vedete che non hanno più nulla cioè dove riescono ad avanzare lo fanno con fatica nessun esercito del sud è stato trattato male quindi abbiamo strarretto bene il turno e ora visto che ho corretto così bene mi permetto anche di avanzare momentaneamente con le seconde linee rifornite qua abbiamo ora il cuore dei nostri territori quindi direi che pariamo il colpo con facilità stanno finendo le truppe e si vede lo sbarco in nuova zelanda se non entro prossimi due turni io credo che rinvieremo boh vabbè aspetta ho visto una linea di un colore diverso ok sono arrivate e sono arrivate metà però sono arrivate quindi terminiamo qua i giochi con un attacco decisivo spingiamo le truppe avanti perché adesso bisogna fare il tutto per tutto e ora o mai più secondo me anche perché se falliamo quest'invasione poi sono guai mi gioco il tutto per tutto in attacco il 110 per cento delle mie forze me le gioco in attacco o tutto o niente sappiatelo loro non riescono a sfondare noi in parte sì perfetto stanno per sbarcare truppe assai lì quindi mi tocca anche fermarli in ogni modo possibile e immaginabile ma non mi fermo no ragazzi piuttosto che faccio un video di un'ora e mezza non mi interessa mi sono accanito e devo vincere questa guerra a ogni costo c'è che guerra ragazzi spettacolare c'è non è una guerra mondiale ma è una guerra spettacolare l'ho già detto sì me ne frega qualcosa no dai prossimo turno è quello decisivo lo sbarco credo che sia il turno dello sbarco sia arrivato sì salviamo il gioco e prepariamoci per qualcosa di grande qualcosa di grande che se abbiamo la fortuna vedremo in questo episodio altrimenti no lo sbarco di wellington rimarrà nella storia per molto tempo quindi credo sia il caso di godercelo per bene io quello che dovevo fare oggi l'ho fatto ora sta alle truppe lì provano a espandersi ma già hanno peraltro finito le forze quindi io ripartirò con molta cattiveria lo sbarco è avvenuto con successo ora sono nei guai nel prossimo video vedremo come andrà mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per le novità dovrei aver salvato il gioco vabbè dai forza facciamo che visto che ho un po la memoria corta occhiolino occhiolino vi faccio un altro turno sto giro salvato sicuro però vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per seguire le novità lasciare tanti mi piace passare dal server discord dal canale twitch dal canale di pricks autore della copertina di questo video detto ciò comunque vada io ho salvato e vi saluto noi ci vediamo ho dimenticato il gesto con un prossimo video